La partita è sempre sotto controllo, anche sull'1-0 loro hanno trovato un gran gol con D'Alessandro, vi faccio i complimenti, però non davano segnali che potrebbero essere pericolosi. Sappiamo che loro fanno questo tipo di calcio, sono una squadra difensiva, aspettano tutti dietro, noi facciamo fatica a fare la partita, però alla fine penso nel comito dei 95 minuti è stata una partita strameritata, giocata bene, anche corretta, loro non accettano il verdetto del campo, però ognuno ha i comportamenti che merita. Noi all'andata abbiamo perso e siamo andati via, tranquillamente, non abbiamo fatto cenni di nervosismo. Ecco visto. Ma benvenga, perché anche oggi si è visto che noi se saltiamo una domenica facciamo fatica a livello di ritmo e non è facile, invece giocando continuamente magari come è successo questi risultati la squadra riesce a trovare condizione, gamba, perché se noi stacchiamo diventa dura. Benvenga questa partita di recupero e con una squadra importante ci andiamo a giocare con le nostre armi, con l'umiltà, la forza del gruppo che sono ragazzi eccezionali, però bisogna lavorare bene. Oggi sicuramente non è stato tra virgolette un Tolentino come Fiuggi, ma gli attenuanti ci sono, però dobbiamo capire che possiamo fare molto meglio.